Si è conclusa da poco una stagione molto intensa per la provincia di Vibo Valenza caratterizzata da un elevato afflusso turistico sia italiano che straniero. In questo contesto la Polizia di Stato con donne e gli uomini impegnati in prima linea ha lavorato per assicurare vacanze all'insegna della tranquillità e della sicurezza pubblica. Il questore di Vibo Rodolfo Ruberti ha comunicato i risultati alle attività di controllo e prevenzione svolte durante l'estate confermando l'approccio di sicurezza partecipata che caratterizza l'azione della Polizia. In seguito a quanto concordato nel Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica a Vibo il questore Ruberti ha predisposto servizi straordinari anche su base interforze concentrandosi sui luoghi di maggiore aggregazione e afflusso turistico specialmente lungo la fascia costiera. L'obiettivo era mantenere elevati gli standard di sicurezza contrastando fenomeni quali abuso di alcol, spaccio e consumo di droga, violenza urbana, vandalismo e altre forme di legalità per tutelare residenti, turisti e attività commerciali. L'azione è stata condotta con il supporto di varie articolazioni della Questura, del reparto di prevenzione crimine e della Polizia Stradale. Quest'ultimo ha rafforzato i controlli sulle principali arterie stradali grazie alla collaborazione con le forze di Polizia Municipale per prevenire incidenti legati a comportamenti di guida pericolosi. Insomma un piano operativo che ha garantito la presenza costante di volanti della Questura, del commissariato di Serra San Bruno e del posto fisso di tropea sul territorio portando a numeri significativi. Sono stati controllati 21.899 veicoli, 48.032 persone. Nel corso delle operazioni la Polizia ha denunciato 100 persone e arrestato 14 individui per reati vari. Poi la divisione anticrimine ha emesso 35 avvisorali per richiamare individui socialmente pericolosi a una condotta conforme alla legge. 20 fogli di via obbligatori destinati a persone prive di legami con il territorio e poi ancora 6 d'Acur o d'Aspoguilli rivolti a soggetti autori di reati contro la persona nelle vicinanze di locali pubblici. Sono state anche proposte 5 sorveglianze speciali al Tribunale di Catanzaro per persone considerate particolarmente pericolose per la sicurezza pubblica.